Oggi pomeriggio a Giarre, delicatissima conferenza dei capigruppo. Infatti potrebbe saltare la seduta consigliare di giovedì 8 giugno, in cui il civico consesso giarrese è chiamato ad approvare il rendiconto 2015. Infatti il consiglio dell'8 giugno è stato convocato per il voto sulla delibera di giunta 12 del 20 aprile, quella appunto sul conto consuntivo 2015, che però la settimana scorsa, per la precisione lo scorso 17 maggio, è stata modificata accogliendo alcuni rilievi. Oggi in conferenza dei capigruppo l'opposizione è pronta a dare battaglia anche sul parere dei revisori dei conti e sarà necessario valutare se la decisione del collegio è valida solo per la delibera 12 e quindi serve un nuovo parere oppure i revisori si sono già espressi e va bene così. La maggioranza è pronta a proporre uno slittamento sul voto del rendiconto a lunedì 12 giugno e su questa proposta si ragionerà nel pomeriggio. Il pericolo di un nuovo nulla di fatto, tuttavia sul consuntivo, sembra sempre dietro l'angolo.